Allora, Assessore oggi qui a Piazza di Sorgimento per un saluto alle forze dell'ordine, ai dirigenti della Polizia Municipale che anche a Pasqua lavorano per la sicurezza dei cittadini. Infatti sento questo dovere in qualità di Assessore al personale di portare il mio saluto, la mia vicinanza alle forze dell'ordine, alla Polizia Municipale e certamente è una Pasqua insolita, una Pasqua diversa, una Pasqua inedita, ma tutto questo ci deve sicuramente con la nostra attenzione e devo dire che la città di Benevento si sta comportando benissimo perché insieme ai colleghi e tutti gli Assessori, insieme al Sindaco stiamo vedendo che la città sta rispondendo molto bene, molto attenta e molto rispettosa di quelle che sono le regole. Da parte mia adesso un calorosissimo saluto a tutte le forze dell'ordine, alla Polizia Municipale, alla comunità tutta. Una Pasqua, come ho già detto, una Pasqua diversa, una Pasqua insolita, ma dobbiamo ancora stringere i denti per cercare di ripartire e di poter continuare ad essere sempre più forti e sereni. Ce la faremo. Una buona Pasqua a tutti. Allora Dottore Santamaria, oggi è Pasqua, sei qui per un saluto alla Polizia Municipale, ma con lei volevo analizzare un po' i numeri, i dati di questi ultimi giorni. Come stanno andando i controlli? I controlli, come sapete, portano dei numeri anche abbastanza significativi. Abbiamo effettuato quasi 700 controlli dall'inizio del mese e sono stati elevati una ventina di verbali complessivamente. Il comportamento sostanzialmente è corretto da parte dei cittadini, anche quest'oggi c'è un'assenza totale di traffico di persone che camminano a piedi. Quindi diciamo che l'attività che ha svolto in questi giorni la Polizia Municipale è veramente incomiabile. C'è stato l'impegno da parte di tutti, nessuna defezione. Noi oggi, facendo un giro nelle varie postazioni, vogliamo proprio portare questo apprezzamento da parte dell'amministrazione, rappresentata sia dai componenti della Giunta che dal sottoscritto come rappresentante della tecnostruttura del comune. Oggi città deserta, per fortuna lei ha la mobilità e il traffico. L'importante è non creare traffico. Come state affrontando come comune questa situazione? Intanto voglio fare gli auguri a tutti di una buona e santa Pasqua. La situazione, come vedete, è molto tranquilla perché poi il Beneventano ha risposto molto bene alle disposizioni normative e regolamentari della Regione e del Sindaco. Quindi benissimo. Io mi occupo soprattutto, sono assessore anche alla legalità e in questi giorni mi sono occupato in particolare della distribuzione delle mascherine. Devo dire che la cosa che un po' mi è dispiaciuta è la circostanza che molti non siamo riusciti a raggiungerli, però posso assicurare la cittadinanza che grazie al Sindaco, grazie ai dipendenti comunali che veramente non si sono risparmiati, alla Polizia Municipale abbiamo cercato veramente di dare il massimo per distribuire questo strumento indispensabile soprattutto in questi giorni. Quindi vorrei proprio oggi, giorno di Pasqua, lanciare un messaggio a tutti. Stiamo sereni, stiamo calmi e soprattutto daremo a tutti la possibilità di avere le mascherine. Veramente c'è uno sforzo notevole da parte del Comando della Polizia Municipale. Io vi vorrei fare entrare nella centrale operativa dove sono sommersi dalle telefonate di cittadini che purtroppo non siamo riusciti ancora a raggiungere. Quindi auguri ancora a tutti, continuiamo così perché il periodo di mancanza di uscite e di vita sociale sta per aprirsi di nuovo alla frequentazione e alla solidarietà umana. Grazie a tutti. Allora io voglio esortire dicendo buona Pasqua a tutti, a tutti i cittadini di Benevento. Sono stati bravi questa mattina, vedo che il dispositivo funziona, non c'è gente in strada. Un malintenzionato è stato verbalizzato sulla pista ciclopedonale a Contrada Pantano perché correva. Questo non si può fare, invito a non farlo durante tutta la giornata. Andiamo avanti così anche per domani e credo che i risultati li avremo. La lontananza di un metro, la impossibilità di andare in giro senza motivo credo che ci farà stare tranquilli in questi giorni. Dobbiamo tirare avanti fino al 3 maggio, lo dobbiamo fare perché è importante, perché sennò manifichiamo tutto e spero che la gente capisca, che comprenda questo slogan, io resto a casa per ancora 20 giorni e poi tireremo le somme. Sono fiducioso, Benevento sta reagendo bene e dobbiamo continuare così. Comandante, i cittadini non hanno ben chiaro se in auto possono andare uno o due persone, un avanti o uno dietro. Ci sono state le incomprensioni, può chiarire questo passaggio? Come no, la questione è questa, col DPCM nazionale si potrebbe anche andare in due, sempre dimostrando che ci sono dei motivi personali, di famiglia o di lavoro. Siccome che in Regione Campania questo dispositivo è stato inasprito non si può andare in giro in due, a meno che la persona che accompagna l'altro accompagni un invalido, nel senso che fa da compagnia di una persona che da solo non si potrebbe muovere. Questa è l'unica eccezione che c'è, per il resto la spesa si fa da solo.